Upas, trame al 28 giugno, Ferri si riavvicina a Marina, Diego e Ida programmano il futuro. In un posto al sole, nelle puntate dal 24 al 28 giugno, Roberto repercorre il suo viaggio con Marina, mentre Diego e Ida progettano il loro futuro con Tommaso. L'imprenditore però mette un freno alla questione figli e finisce per fare a Filippo una proposta sorprendente, e al momento sconosciuta. Dopo aver ascoltato il turbamento di Lara e aver appreso il suo delicato segreto, sorella Maura le fa una proposta sorprendente. Damiano finisce per prendere parte ad un'operazione di polizia per rintracciare Angelo. La famiglia torrente ha minacciato Clara su larga scala, costringendo la donna a lasciare il programma di protezione il prima possibile. Alberto però non viene informato delle sue dimissioni ed è deluso quando ne viene a conoscenza. Insieme al figlio e al marito Edoardo, Ferri si rende conto di aver commesso un errore nei confronti di Marina. Diego e Ida fanno progetti per il futuro dopo l'attacco mediatico, Roberto coinvolge nel complotto il figlio Filippo per non perdere Tommaso. La costante tenacia dell'imprenditore avrà conseguenze spiacevoli nel suo rapporto con Marina. Tuttavia, si rende conto di aver commesso un errore nei confronti della moglie e fa del suo meglio per ricucire i rapporti con lei. Ciò consente alle coppie di riscoprire l'armonia di un tempo sia nel lavoro che nei rapporti coniugali. I gnari dei piani di Roberto, Diego e Ida fantasticano sul futuro che li attende con Tommy. Nel frattempo Lara racconta a sorella Maura ciò che la tormenta e rivela un delicato segreto. Poco dopo la donna resterà sorpresa dalla proposta della sua ora. Intanto proseguono le indagini per scovare il nascondiglio di Angelo Torrente. Il pubblico ministero Cimmino, che vuole che l'operazione vada comunque a buon fine, chiede a Damiano di partecipare all'operazione di polizia. Nonostante i consigli di Edoardo, Angelo è sempre un passo avanti rispetto agli agenti di polizia. E il boss fa addirittura minacciare Clara dai suoi scagnozzi. Il giorno dell'addio per Clara, Edoardo e il piccolo Federico arriva prima del previsto, ma Alberto non lo sa. L'avvocato cade nella disperazione quando apprende che suo figlio se n'è andato. L'emergenza in ospedale trasforma le paure di Ornella in realtà Michele e Silvia cercano di salvare insieme il loro matrimonio dopo aver appreso che Mariella e Guido sono innamorati di Claudia. Per ascoltare l'amica, Claudia si comporta in modo distanziato nei confronti del poliziotto, credendo che ciò spingerà l'uomo ad allontanarsi da lei. C'è anche la possibilità che il medico di De Santis fosse malato. Quando Rosella scopre il segreto di Luca, finisce per vegliare su di lui mentre un'emergenza improvvisa capovolge tutto. Giulia sarà preoccupata per Luca, ma Ornella si sentirà in ansia. Sua Riolanda si ammala e l'ospedale è nel caos. Alla fine, una volta che i gemelli hanno combinato un pasticcio, Serena è impegnata a prendersi cura del suo guardaroba. Fanfuriosi per la partenza inaspettata di Clara arriverà il giorno in cui Clara dovrà dire addio a Napoli e alla sua identità. Alberto non verrà informato del suo ritiro e quando lo scoprirà sarà troppo tardi. La donna parte con Eduardo e il piccolo Federico. Dopo aver appreso questa notizia, i fan della fiction storica napoletana hanno protestato contro il gesto di Clara. Clara ha commesso un errore, hanno ribattuto i fan sui social media. Non puoi togliere un figlio a un padre così. La sua mente è solo impegnata a lavorare con la camorra. Clara non si preoccupa di suo figlio. Dopotutto, lei è la figlia del camorra che ha ucciso sua madre. Cari autori, avete dato un terribile esempio. Da quando la legge permette a un genitore single di decidere della sorte di un minore. Ma il padre ha importanza? E necco, a chi importa di più di un camorrista del padre biologico e della compagna un altro utente ha elaborato, viva Alberto. Ma quale madre metterebbe il figlio in un programma di protezione senza dirlo all'ex marito? Questo è sbagliato. Alberto può essere qualsiasi cosa, ma non se lo merita. Il feedback dei fan di Un Posto al Sole è stato questo si trattava di avere un figlio tra loro.